si vota domenica 31 maggio dalle 7 alle 23 per le elezioni comunali in più di 700 comuni italiani e per il rinnovo dei presidenti e dei consigli regionali di 7 regioni veneto liguria toscana marche umbria campania e puglia l'elettore dovrà presentarsi al seggio con un documento di identità valido e la tessera elettorale chi non ha la tessera o la smarrita può richiederla all'ufficio elettorale del comune di residenza tutte le informazioni sulle elezioni e sul voto domiciliare e assistito sono disponibili nella programmazione regionale della rai sulla pagina 516 di televideo di rai 3 e sui siti www.interno.gov.it e su www.rai.it inoltre si ricorda che si vota anche domenica 10 maggio in alcuni comuni del trentino alto adige dalle 7 alle 21 e della val d'aosta dalle 7 alle 23 e che in sicilia per le elezioni comunali i seggi saranno aperti domenica 31 maggio dalle 7 alle 22 A.I.L. 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 a.I.L.